...ci raggiunge da Palermo, siamo molto felici di averla qua con noi, è docente di fenomenologia dei media dell'Accademia di Belle Arte di Palermo ed ha un rapporto stretto con la città di New York, mentre l'altra volta con Federico Arampina abbiamo, come dire, mappato la città dal punto di vista sociale, storico, civile, adesso oggi abbiamo la fortuna con Laura Barreca di fare una decognizione della città dal punto di vista storico-artistico e di entrare dunque un po' più nel merito di quelli che sono i contenuti della mostra che immagino voi abbiate già visto. Laura Barreca ha un rapporto privilegiato con l'America e con la città di New York, leggo dal suo lunghissimo curriculum ricco di esperienze e di riconoscimenti, nel 2009 ha vinto una borsa di studi alla Columbia University e dal 2011 è curatore, curatrice di mosse per l'Istituto italiano di cultura a New York, fa parte della giuria internazionale per l'assignazione premio New York del Ministero delle F.A. di Esteri ed è cocuratore di varie mostre sempre collegate alla città in questione e ha tenuto conferenze in Italia e all'estero e oggi abbiamo la fortuna di averla con noi per farci raccontare un po' quello che è la mappa, l'immagine di New York anche dal punto di vista storico-artistico. Grazie. Grazie Marco. Grazie di questa introduzione e volevo anche ringraziare Daniela Lancioni che ha esteso a me questo invito e sono molto felice di essere qui, volevo anche ringraziare l'organizzazione del Palazzo delle Esposizioni sempre così coordinata. Come diceva Marco, noi oggi tracciamo in questa conversazione che si chiama Mapping the City, come cambia la città con l'arte contemporanea, tracciamo una fotografia, forse una piccola breve panoramica, spero esaustiva, non sarà mai esaustiva, ma ci proviamo, su quella che è stata l'evoluzione, lo sviluppo che ha investito New York negli ultimi dieci, forse vent'anni. Tutto accade a New York rapidamente e New York per chi non c'è mai stato è una città non sconosciuta, perché New York è una città che conosciamo attraverso i libri, attraverso il cinema e vedo appunto che il Palazzo delle Esposizioni insieme a queste conversazioni new yorkesi ha anche una corposissima rassegna di video, di cinema, con appunto alcuni dei film cult, insomma che raccontano New York da Manhattan a Taxi Driver, eccetera. E credo che questo insomma faccia parte così anche della idea della ricostruzione insomma di quello che è appunto l'idea che noi ci siamo fatti di New York, di quella che è appunto la città appunto stato dell'arte, lo stato delle arti, quella che possiamo definire insomma che per gli addetti ai lavori, cioè quelli che si occupano di arte moderna o contemporanea, è un po' appunto la capitale, la capitale globale dell'arte e è interessante insomma vedere il modo in cui questa città insomma ha costruito e come si sono evolute in realtà insomma le dinamiche topografiche anche della città attraverso l'arte contemporanea, attraverso come dire quei fenomeni e quelle realtà che si sono avvicendate nel corso degli ultimi anni. E questo perché è un luogo che inevitabilmente insomma ci troviamo poi a citare continuamente, non soltanto per l'arte contemporanea è chiaro, ma principalmente insomma se decidiamo di visitare un grande centro d'arte contemporanea la prima meta che ci viene in mente è New York. E questo perché dalla seconda metà del Novecento soprattutto, ma forse ancora prima perché storicamente diciamo il centro dell'arte contemporanea da Parigi immediatamente dopo la prima guerra mondiale, insomma tra le due guerre si sposta a New York. New York deve moltissimo infatti all'intelligenza europea che si sposta appunto negli Stati Uniti e qui diciamo dà e lascia appunto le sue lezioni americane, insomma gli artisti che delle nostre avanguardie storiche, cioè di quelle avanguardie del Novecento europeo hanno poi insomma influenzato e caratterizzato anche la formazione artistica, culturale, ideologica degli artisti che poi negli anni 50 come dall'espressionismo astratto ma anche alla pop art poi si sono come dire evoluti e sviluppati proprio e soprattutto anche nella città di New York. Ora voglio partire dal titolo perché mi sono fatta suggestionare insomma dalla possibilità di offrire questa riflessione su New York, quindi siccome consideriamo insomma gli artisti un po' come i nostri profeti, allora ho scelto di citare pretestuosamente il titolo Mapping the City da un titolo di un lavoro di un artista molto famoso americano che si chiama Bruce Nauman che nel 2000 aveva realizzato un lavoro, un lavoro video che si chiamava Mapping the Studio. Mapping the Studio era un momento particolarmente non felice per questo artista, era un momento in cui non lavorava moltissimo quindi aveva necessità di trovarsi qualcosa da fare. Allora decise di mettere una telecamera nel proprio studio di New York e qui di mappare tutto quello che accadeva durante la notte e la notte, insomma noi dormiamo però, durante la notte invece accadono moltissime cose, accade soprattutto quello di cui non ci si accorge e non ci si accorge per esempio del ronzio delle mosche, del ronzio delle zanzare, non ci si accorge dei ghirigori che fanno le falene, non ci si accorge dei gatti che passano neanche dei topi perché questo è un classico a New York perché sei stato a New York e se non hai visto un topo non sei stato a New York perché la città è piena di topi. E Bruce Nauman infatti per 42 giorni racconta questa mappatura di questo studio. E scrive questo a proposito, scrive concentrandosi troppo su un'azione o su un'idea si rischia di lasciarsi sfuggire tutto ciò che spontaneamente può accadere dall'accettazione del banale, dell'ordinario, del vuoto apparente, può nascere invece quell'apertura mentale che porta ad una rinnovata creatività. Ci sono almeno due concetti qui, almeno due, che ci interessano. Uno è l'apertura mentale, il secondo è la rinnovata creatività, la possibilità di rinnovarsi continuamente. E credo che questi siano almeno due degli aspetti, delle questioni che riguardano più, insomma, strettamente proprio quella che è l'identità di New York. L'apertura mentale. L'apertura mentale è fondamentale per gli americani. C'è quella capacità appunto di essere open-minded, cioè di saper guardare oltre, di saper vedere al di là delle loro possibilità. Potrei fare riferimento all'American Dream, cioè a tutto quello che è, diciamo, il portato, il contesto, l'idea che New York ha sempre offerto a tutti, cioè andare negli Stati Uniti, è sempre significato, insomma, poter realizzare, insomma, i propri sogni, no? È un po' un posto dove per antonomasia si dice che i sogni diventino realtà. Chissà se è così. Comunque, grazie a questa apertura mentale, la creatività di New York si rinnova continuamente, ed è una creatività che non è chiusa, cioè che è una creatività che investe tutta la società. E allora non ci sono, insomma, la società americana, insomma, e soprattutto il popolo new yorkese, che è un popolo, insomma, a trovarlo, un vero new yorkese, perché non esiste forse. I new yorkesi in realtà sono gente che arriva un po' da tutto il mondo, che si trova a New York per più tempo, insomma, un po' come me, come la mia esperienza. Insomma, alla fine si arriva in qualche modo in questa città, si sta un po', si vive un'esperienza, si ritorna, ma in fondo, insomma, si vive anche per brevi periodi. Ecco, se noi dovessimo dire, se dovessimo identificare, insomma, una persona che si occupa di arte contemporanea, ma anche chi non si occupa di arte contemporanea, perché se ne accorgerebbe subito, c'è un luogo, un'area di New York, Manhattan è un'isola, che è votata all'arte contemporanea ed è un quartiere che si chiama Chelsea. Il quartiere di Chelsea è un quartiere che si trova nella parte ovest di Manhattan, nella parte in basso, sulla parte ovest, e si affaccia sul fiume Hudson. Questo è un quartiere che, diciamo, possiamo considerare, insomma, un po' come una zona davvero paradigmatica appunto di New York, perché è intanto, insomma, un quartiere che prima di diventare il più grande distretto di gallerie d'arte contemporanea, ce ne sono circa 200, forse di più, ora, insomma, dopo la crisi, dopo la caduta delle Torri Gemelle, eccetera, c'è stato un ridimensionamento, insomma, il, come dire, il distretto delle gallerie di Chelsea è in assoluto, è a livello globale, insomma, uno dei più importanti al mondo. E perché Chelsea è un paradigma? Perché la storia di Chelsea è paradigmatica ed è un po' quello che è accaduto anche in altri luoghi della città, come succede, insomma, nei processi di gentrificazione, nei processi, insomma, che in qualche modo poi cambiano i poli culturali delle città, i poli attrattivi, insomma, le zone appunto di attrazione della città. Chelsea era un quartiere industriale, affacciandosi sull'Azon era un quartiere a vocazione industriale, dove appunto c'erano questi grandi spazi dei magazzini che servivano esattamente proprio per lo stoccaggio delle merci, che arrivavano con le chiatte sui pierce, i pierce sono questi moli che si aprono appunto sull'Azon, questa parte qui, e arrivando appunto le chiatte, cioè tutta la merce che arrivava, arrivava necessariamente appunto in questi spazi e veniva stoccata in questi grandi magazzini. E questi grandi spazi, appunto, che oggi invece sono diventati una specie di mix architettonico di magazzini, di ex magazzini, ma anche di residenze, insomma, di un certo livello. Chelsea ora è diventata una zona ampiamente residenziale, proprio per la presenza appunto delle gallerie, ma prima che arrivassero le gallerie ci sono stati gli artisti e questo è un, come dire, un processo che funziona e che regola in qualche modo anche il sistema e le dinamiche immobiliari di una città. Allora gli artisti che dicevamo sono un po' profeti, ci vedono sempre lungo, insomma, e cercano e carpiscono quello che c'è nell'aria. E nell'aria cosa c'era negli anni 90, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90? C'era un cambiamento epocale nel linguaggio dell'arte contemporanea. Il linguaggio dell'arte contemporanea è cambiato, è cambiato nell'omecento, ma è cambiato molto più negli ultimi vent'anni dal punto di vista dello statuto dell'opera d'arte contemporanea. L'opera d'arte contemporanea non è più l'oggetto, per intenderci, non è più la sedia rappresentata come una sedia, è un processo, è una condizione, è un'occasione, un evento, una performance, un momento artistico nel quale appunto l'artista concentra un'idea e la rappresenta e nello stesso tempo è la condizione per la quale gli artisti ad un certo punto iniziano ad avere necessità di uscire quasi dagli spazi piccoli dei loro studi, da quegli spazi piccoli, da quelle condizioni espositive che possono essere ricondotte all'idea della white cube, che in inglese significa del box, della scatola bianca. Che cos'era la scatola bianca? Era semplicemente un luogo neutro che ospitava le opere d'arte. È un concetto che nasce negli anni 40, c'è una appunto la galleria di Betty Parson di Soho, insomma sono concetti che poi con i quali l'arte e le opere d'arte si sono accompagnati durante gli anni, durante i decenni. L'idea della white cube negli anni 90 sparisce, nel senso che gli artisti hanno necessità di liberarsi di questa cornice, non soltanto cornice architettonica, intendiamoci, ma anche una cornice concettuale che limitava l'opera. L'opera adesso ha acquisito una dimensione contestuale, molto più ampia, molto più legata anche allo spazio architettonico, legata all'idea che, insomma, lo spazio è uno spazio elastico, uno spazio con il quale ci si può lavorare, con il quale si può interagire. C'è il manifesto, insomma, che poi sarà quello che è stato il manifesto negli anni 90, scritto da Nicolas Bourriot, dell'estetica relazionale che in qualche modo ricostruisce questo legame, questo legame, questa ridefinisce l'idea della macchina visuale, cioè di quella marchigegno che si crea tra l'opera, l'artista, lo spazio architettonico e il pubblico. Perché il pubblico è importante, insomma, nella, come dire, ridefinizione dell'opera, la contestualizzazione, la presenza del pubblico è fondamentale. Il pubblico, in questo senso, non può essere accolto in uno spazio piccolo e ristretto, bisogna, insomma, di vivere in una dimensione, appunto, più ampia, più generale. E cos'è che cambia a Celsi? Cos'è che diventa emblematico e paradigmatico a Celsi? Esattamente proprio la capacità degli artisti di sapersi relazionare con quegli spazi, con quei grandi magazzini, con una nuova dimensione architettonica. Arrivano quindi le grandi gallerie e le grandi gallerie diventano quasi delle piccole multinazionali, cioè diventano, insomma, anche le gallerie possono e devono confrontarsi con degli spazi più ampi. Questo vuol dire offrire opere di dimensioni maggiori, questo vuol dire, insomma, aumentare anche il volume economico degli affari. Le Gagosian, James Cohen, Paola Cooper, Pace Wildenstein, queste soltanto alcune per citarne, solo alcune di quelle gallerie che poi, come dire, in qualche modo sono diventate il gota del sistema dell'arte internazionale. Quelle gallerie che in qualche modo dettano le regole del sistema, perché l'arte contemporanea è gestita da un sistema come tutti i sistemi, come anche il mercato del pesce. C'è un'offerta, c'è una domanda, c'è chi produce e c'è un prodotto. E in questo senso appunto il distretto delle gallerie di New York diventa appunto il luogo dove accadono le cose in nuce, dove si stabiliscono delle consuetudini e queste consuetudini diventano appunto consuetudini di tutti. Per esempio, l'idea appunto di inaugurare banalmente tutte le gallerie nei stessi giorni o nelle stesse settimane. Quindi se vi capitasse o vi è capitato di andare a New York e di vedere questo sciame di persone che cammina lungo le strade di Chelsea, stanno sicuramente partecipando a degli opening, quindi a dei vernissaggi, insomma, all'interno appunto di queste gallerie. Ora, Chelsea non è l'unico distretto, ne esistono altri, almeno altri, ne esistono quattro a New York. Ce n'è appunto uno che sta sulla cinquantasettesima e la quinta strada, dove si trovano gallerie che si occupano più di arte moderna e classica. C'è un altro distretto che si trova su Madison Avenue, tra la sessantatresima e l'ottantunesima, nell'Upper East Side, quindi in una zona completamente opposta a quella di Chelsea. C'è il quartiere di Soho, che comprende appunto un quadrangolo che si articola tra Broadway, West Broadway e Houston Street, insomma, tra quelle strade, diciamo, che si sono, che costruiscono appunto questo quadrilatero dell'arte, che è stato, insomma, poi particolarmente importante e conosciuto anche perché ci hanno vissuto e hanno lì lavorato artisti come Keith Haring, come Basquiat, insomma, sono diventati famosi. C'è un bellissimo libro di qualche anno fa di Basquiat pubblicato, scritto da Febe Oban, pubblicato in Italia, insomma, dove c'è un ritratto, insomma, molto molto bello, interessante anche della vita di downtown New York negli anni Ottanta. E questo, diciamo, idea che New York viva appunto questo processo di gentrificazione, cioè di questa capacità appunto di muoversi e di non legarsi ad un luogo. È una caratteristica, diciamo, che si è ripetuta negli anni e che noi rivediamo continuamente, così come da Soho gli artisti si sono spostati, gli artisti da Chelsea si sono spostati da un'altra parte, questo ora, insomma, lo vedremo più avanti. Però, insomma, voglio sempre restare a Chelsea perché Chelsea, diciamo, si sta concentrando più o meno tutto, o meglio, si stanno concentrando un paio di progetti che lo renderanno non soltanto il distretto di gallerie più importante nel mondo, è quello almeno con il numero più corposo di gallerie, ma il distretto culturale più importante al mondo perché lì ci saranno, o comunque ci sono già e sono già in essere in costruzione, alcuni esempi di istituzioni culturali, tra cui questa, che si chiama Highline, ed è un progetto che è stato, diciamo, da poco completato, nel senso che è un progetto che è andato avanti per almeno un decennio, insomma, per dieci anni almeno, perché questa storia inizia tanto tempo fa. Inizia però nel 1939, alcuni dicenni storici, nel 1939 viene costruita una sopraelevata ferroviaria, la sopraelevata ferroviaria è un posto dove ci sono dei binari e passano dei treni. La storia dell'Highline è emblematica perché ci aiuta a capire il modo in cui la comunità di New York ha reagito ad una testimonianza industriale, ad un bene culturale, insomma, recente, in un modo esemplare. Allora, accade che nel 1985 questa linea ferroviaria viene interrotta e nel 1985 tutto si chiude, insomma, questa ferroviaria viene chiusa, finché i proprietari degli immobili che stavano al di sotto dell'Highline cominciano a spingere perché questa ferroviaria venisse abbattuta. Ora, noi sappiamo, insomma, che per evidenti motivi economici è molto più semplice e assolutamente diciamo anti-economico abbattere un bene industriale per ricostruire o qualcos'altro, o semplicemente abbatterlo e basta, è sempre meglio, insomma, attuare, diciamo, dei processi di riqualificazione architettonica. E infatti così è stato fatto. Le nostre città sono piene di archeologi industriali. Quello che è rimasto, diciamo, come dire, le testimonianze dell'epoca industriale che è un fenomeno recentissimo perché è lungo meno di un secolo e si è consumato all'interno di un secolo. Ci hanno lasciato degli spazi che adesso appunto rientrano all'interno quasi delle mura cittadine o comunque possono essere considerati centrali. A Roma il quartiere dello Stiense, per esempio, è stato il primo quartiere industriale di Roma, quello voluto dal primo sindaco democratico di Roma, che era il famoso Ernesto Nathan, secondo un progetto di espansione industriale e un piano regolatore che risale al 1912, ma che aveva ripensato appunto quell'area come un'area industriale. Adesso l'area industriale dello Stiense in realtà è diventata qualcos'altro. C'è l'università, c'è Roma 3, c'è la centrale Montemartini, che è stata trasformata appunto in un museo che ospita la gipsoteca dei musei Capitolini e così via. E quindi, perché questo non può accadere a New York? Accade a New York proprio sull'I-Line. L'I-Line è questo piccolo gioiellino che la municipalità di New York si è costruita faticosamente in questi anni. Nel 1991, vi dicevo, questi proprietari di immobili che stavano sotto la sopraelevata riescono ad ottenere la demolizione di una parte, di almeno cinque blocchi di questa sopraelevata nella parte a sud. Qui si fermano perché nel 1999 poi si forma un comitato che si chiama The Friends of the High Line ed è un gruppo appunto degli amici dell'High Line ed è un gruppo di un'associazione no profit, un'organizzazione spontanea di cittadini che vivono nella zona e nell'area del midpacking district e si mettono insieme e decidono che questo è un bene troppo importante per poterlo abbandonare e poterlo cedere soprattutto agli interessi biecamente immobiliari, insomma di qualche immobiliarista che avrebbe insomma ovviamente guadagnato, speculato sulla realizzazione di altri immobili in questa zona. Così nel 1999 gli amici dell'High Line insieme a Michael Bloomberg e alla municipalità di New York cercano appunto di conquistare il cuore dei new yorkesi e di sensibilizzare il cuore dei new yorkesi per recuperare quello che è appunto uno spazio all'interno della città e che in qualche modo doveva essere apparteneva alla città e doveva essere restituito alla comunità. Così con grandi sforzi insomma e con la partecipazione finanziaria anche insomma di alcuni mecenati tra cui appunto la stilista Diane von Furstenberg per esempio che si spendono e spendono molto per sostenere questo progetto viene finanziato un concorso di idee internazionale, un concorso pubblico al quale partecipano 720 studi da tutto il mondo tra cui appunto lo studio di Zadid, lo studio di Stephen Hall, insomma studi internazionali molto importanti che poi partecipano ad una mostra al MoMA credo nel 2004, il 2004, il 2005 e alla fine di questa competizione cioè di questo concorso pubblico finalmente viene scelto uno di questi progetti. Il progetto scelto è quello di un gruppo di architetti che si chiamano Dillier e Scofidio più Renfro che realizzano appunto il migliore diciamo progetto architettonico. Il progetto architettonico ideato da Dillier e Scofidio più Renfro è un progetto che prevede appunto la riabilitazione di tutto il percorso dell'highline così come è stato eseguito e la creazione appunto di spazi pubblici, di spazi che interagiscono con la città e quindi ci sono appunto delle entrate sulla undicesima avenue che è appunto la grande strada che va appunto sale in verticale verso Manhattan che attraversa insomma lungo la quale poi si dipana appunto tutto l'highline e Dillier e Scofidio realizzano questo progetto non da soli ma insieme allo studio James Corner Field Operations che vince con la competizione insieme appunto allo studio architettonico e che si occupa di architettura del paesaggio. Esiste appunto questa branca che si occupa appunto di individuare quali sono le strategie migliori anche per la conservazione e la salvaguardia delle specie naturali autoctone di un certo luogo. Allora siccome gli americani quando fanno le cose le fanno bene si sono messi a studiare, a documentare ed archiviare tutte le specie naturali autoctone che erano appunto cresciute spontaneamente in 25 anni di non attività della ferrovia a New York e che in qualche modo costituiscono questo piccolo patrimonio verde, questa eredità della città di New York. Quindi se voi visitate il sito e vi invito a farlo perché è uno dei siti anche più interessanti che si arricchiscono continuamente di informazioni e troverete lì appunto una piccola sezione di botanica dove sono state documentate circa 210 specie autoctone cresciute stagionalmente all'interno appunto dell'eyeline e che sono state conservate e che vengono ripiantumate ogni stagione. Quindi se voi andate appunto a farvi una passeggiata sull'eyeline, perché oggi l'eyeline è un posto dove si passeggia e si percorre come dire tutto il quartiere di Chelsea godendosi da una parte dalla città, dall'altra il fiume Hudson, circondati però da queste specie appunto vegetali così interessanti, variegate e totalmente spontanee. Quelle che Gilles Clement chiamerebbe il terzo paesaggio, cioè quelle piante che crescono spontaneamente e che in qualche modo ripopolano un luogo, uno spazio. In questo caso queste sono state riconosciute come le piante di New York, insomma quelle che crescono anche tra lo smog e l'aria del fiume. In tutto questo l'eyeline ha sviluppato appunto proprio per raccordare la città con questa presenza che non è più una presenza diciamo di semplice ferraia sotto il cielo, insomma che noi possiamo in qualche modo così dimenticare che esista, ma l'eyeline è diventata appunto un luogo, è diventato un parco pubblico, è diventata, ha costruito la sua storia in questi dieci anni e all'interno dell'organizzazione dell'eyeline si è creata appunto una piccola, un'altra organizzazione che si chiama Highline Art, che si occupa di progetti di arte pubblica, che è un progetto di arte che viene periodicamente sostituito e che viene organizzato, attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali che realizzano progetti specifici per quel posto, quindi durante le nostre passeggiate sull'eyeline per esempio si possono incontrare dei progetti, delle sculture che in qualche modo insomma accompagnano la nostra visita. Uno dei progetti più visibili, cioè quelli che si vedono sia dall'eyeline che dalla strada, sono questi appunto i famosi billboards che sono appunto degli enormi cartelloni pubblicitari che invece ospitano degli interventi artistici, dei contributi anche insomma divertenti e quindi qui ve ne cito alcuni che si sono così alternati durante questo periodo, durante gli ultimi anni, questo di Cattelan, e i progetti appunto dell'eyeline, Hart, cambiano continuamente e sono insomma la parte come dire più evidente, o meglio che evidenzia il rapporto di questo luogo con la città. questa caratteristica comunque, cioè il fatto appunto di poter avere dei progetti di arte contemporanea in questo luogo non è una cosa peregrina, cioè non è stato una, non è un progetto peregrino perché nel 2005 in uno degli spazi appunto dell'eyeline si svolge una mostra che si chiama The Plane of Heaven. The Plane of Heaven è una mostra anche questa emblematica perché come tante diciamo occasioni è servita in qualche modo a sensibilizzare quella che era la comunità non soltanto diciamo del vicinato insomma dell'area di Celsi ma anche la comunità artistica e la comunità insomma culturale della città di New York. The Plane of Heaven è una mostra che è stata ospitata nel 2005 quando ancora i lavori dell'eyeline non erano iniziati ma era già stato affidato ad Iler Scofidio comunque il progetto di riqualificazione e The Plane of Heaven è una mostra che è stata organizzata all'interno di uno spazio del Meatpacking District cioè proprio nello spazio, nel luogo dove inizia il percorso dell'eyeline. È uno spazio industriale enorme che ha ospitato appunto 14 artisti internazionali tra cui Son Dong, Adam Zvianovic, Trisha Donnelly, Gordon Manta-Clark, Sol Lewitt, Saskia Oldevolbers eccetera. Questi artisti hanno realizzato ognuno di loro insomma dei progetti specifici e hanno uno come dire degli artisti che hanno ispirato poi tutto il progetto era stato questo video realizzato da Gordon Manta-Clark nel 1975 che si chiama Days Hand, Pier 52, che è un'opera, il Pier 52 è appunto uno di quei moli che stanno sull'Hudson e che non è lontano dal luogo dove si è svolta la mostra The Plane of Heaven. Nel 1975 Gordon Manta-Clark che insieme a Robert Smithson è stato uno dei grandi ripensatori anche del contesto urbano, delle idee appunto di ripensare appunto il contesto urbano ed industriale in un modo non convenzionale. Diceva appunto che era possibile trasfigurare il convenzionale, quindi tutto ciò che era convenzionale insomma poteva rivivere in un altro modo, quindi semplicemente, forse sembrerà strano, ma questo artista nel 75 sale su una gru si fa appendere con un sistema appunto di ganci e taglia una parte di questo Pier lasciando intravedere appunto questa presenza, questo taglio sia fuori che dentro questa struttura. La mostra The Plane of Heaven ospitava anche questo video, ma ha ospitato moltissime performance per esempio delle installazioni, ha ospitato per esempio un lavoro di Soluit che poi è stato distrutto, ma è stata un'opera appunto realizzata, era un wall drawing realizzato a penna, blu, sul muro ed era appunto un progetto specifico pensato proprio per unire, è stato uno delle ultime cose forse che ha realizzato nei suoi anni, insomma gli ultimi anni e ha in qualche modo caratterizzato questo spazio anche architettonicamente. Ora fare le mostre in uno spazio industriale potrà sembrare strano, in realtà gli artisti avevano così, diciamo come si legge anche in alcune conversazioni del catalogo che ospita appunto poi la documentazione di questa mostra, si dice che gli artisti ci avevano già messo gli occhi su quello spazio, quindi insomma in qualche modo non vedevano l'ora di poterci lavorare. E così è stato. E questo spazio, insomma, questo progetto della mostra The Plane of Heaven è stato organizzato da una organizzazione non profit che si chiama Creative Time. Creative Time è una organizzazione a New York che si occupa da anni di progetti di arte pubblica. I progetti di arte pubblica sono progetti semplicemente che piuttosto appunto che svolgersi all'interno dei musei o di istituzioni stabilizzate, diciamo comunque strutture chiuse, organizzano dei progetti nel tessuto, nel territorio della città. Mi ricordo un anno di aver visto un progetto fantastico di Janet Cardiff, di quest'artista insomma eccezionale che aveva pensato un lavoro audio all'interno di Central Park, per cui si entrava a Central Park, ci si mettevano delle cuffie, all'interno di queste cuffie si ascoltava la voce dell'artista che si era registrata, anche lei a sua volta, in una passeggiata dentro Central Park, quindi insomma togliendosi e rimettendosi queste cuffie si aveva quasi la sensazione insomma che ci fosse una persona che ci accompagnasse. Ecco questo era un progetto insomma che poi è durato per tutti i mesi estivi e comunque uno dei tanti che regolarmente e periodicamente Creative Time si occupa appunto di gestire, di organizzare. Ed è importante perché organizzazioni di questo tipo permettono anche di concentrare, di fare insomma il famoso fundraising, cioè quello che le istituzioni pubbliche o il pubblico non possono darti, te lo danno i privati. E in questo caso appunto la mostra The Plain of Raven era stata sponsorizzata per esempio dalla Nike, che era appunto è dalla Andy Warhol Foundation, è dal Consulato Generale dell'Olanda e da altri sponsor insomma che avevano partecipato. E questo è un tema insomma che toccheremo dopo perché diciamo è uno dei temi cruciali anche nella produzione artistica contemporanea di oggi. Chelsea e qui diciamo questo quartiere continua diciamo ad arricchirsi come vi dicevo di progetti che saranno, che sono in essere, che sono in costruzione, sarà, ospiterà presto e aprirà nel 2016 il nuovo, la nuova sede del Whitney Museum. Il Whitney Museum of American Art è appunto gli americani hanno un museo di arte americana, che è appunto il Whitney, che ospita mostre a una colazione permanente di arte contemporanea che si trova nell'Upper East Side, quindi in una zona a nord di Manhattan e che nel 2016 aprirà questa sede progettata dallo studio di Renzo Piano. Renzo Piano che peraltro appunto è amatissimo a New York, adesso sta anche realizzando appunto questo polo della Columbia University ad Harlem, quindi le sue commissioni non mancano e il progetto di Renzo Piano prevede appunto la costruzione di questo edificio proprio sul, quasi sull'highline, ma appunto che si affaccia sul fiume. Un'amica che è Chrissy Hiles che è la curatrice appunto del Whitney mi ha raccontato come sono riusciti ad avere, diciamo, a realizzare questo progetto. Come in ogni famiglia diciamo che vuole fare un investimento vendono una cosa ne acquistano un'altra e poi si fanno anche aiutare con quello che manca e così hanno fatto per cui il Whitney ha venduto una parte degli edifici che ospitavano gli uffici nell'Upper East Side e li ha venduti al Metropolitan, quindi ad un altro museo che si trova lì vicino più o meno, in quella zona che è chiamata Museum Miles, cioè in quel chilometro, in quel miglio diciamo, dove si trovano appunto tutti i musei, il Guggenheim, il Metropolitan, il Getty e il Cooper Hewitt Museum e questa parte, diciamo, questa vendita è servita per finanziare questo progetto insieme al finanziamento dato dai privati. c'è un gruppo infatti di finanziatori del museo che ha sostenuto e sostiene il progetto di costruzione del Whitney Museum che in qualche modo sarà, ricostituirà, come vi dicevo, insomma uno dei poli d'arte contemporanea, non più soltanto di gallerie, ma uno dei poli d'arte contemporanea più importanti al mondo concentrandoli appunto lì, quindi ci sarà, appunto ci sono le gallerie, ci sono, c'è l'Eline, ci sarà appunto il Whitney Museum che serve ad intercettare insomma anche un pubblico più giovane, cioè quello che frequenta il mondo dell'arte contemporanea, delle gallerie eccetera, e quindi sarà, diciamo, interessante vedere in che modo, insomma, quale potenza assoluta e quale impero, così per citare il titolo di questa mostra, dove ospitata qui, insomma, diventerà. Il museo quindi ha questa struttura qui, il 2015, non il 2016, scusate, a Celsi, gli spazi per l'arte contemporanea comunque non sono mai mancati e quindi faccio anche degli accenni su questa zona, perché questo è un luogo che negli anni ha ospitato, insomma, altri progetti e questi altri progetti sono diventati negli anni dei luoghi di riferimento per chi si occupa non soltanto di arte contemporanea ma anche di, appunto, new media o nuove tecnologie e è importante sapere che, insomma, proprio alcune di queste istituzioni sono ancora oggi e comunque hanno partecipato a quella che è la diffusione, lo sviluppo dell'arte contemporanea, insomma, dei nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Ora, i nuovi linguaggi dell'arte contemporanea, sì, sono diventati, insomma, non più l'oggetto, sono diventati l'installazione, sono diventati la videoinstallazione, hanno cominciato a partire, appunto, dagli anni 90 ad utilizzare le nuove tecnologie, lo hanno sempre fatto, in realtà, insomma, a partire dagli anni 60 in poi artisti come, appunto, Nanjoon Pai, Bill Viola, Wolf Bostel, sono diventati, insomma, delle icone, sono diventati i padri dei linguaggi, appunto, che utilizzano time-based media, cioè opere che sono basate sul tempo e che utilizzano nuove tecnologie. E questi artisti lo hanno fatto supportati anche dalla presenza di alcune istituzioni, tra cui, per esempio, nel 1971 nasce Electronic Arts Intermix, che è un'istituzione che si trova, appunto, ancora oggi sulla ventiduesima strada di Chelsea, ed è Electronic Arts Intermix, è un luogo che è nato prima come galleria che serviva per ospitare delle mostre di video, poi è fallita perché non erano i tempi, nessuno si comprava i video negli anni 70, ma si è trasformati in un'organizzazione che promuoveva, produceva e archiviava e collezionava opere d'arte video. Adesso Electronic Arts Intermix è una delle collezioni più importanti, anche una collezione molto consistente d'arte video e si occupa anche di prestiti e quindi artisti come Vito Acconci, Marina Abramovic, Vali Export, insomma artisti anche contemporanei, hanno per conservare le loro opere, le hanno cedute a Electronic Arts Intermix. Se siamo un'istituzione pubblica e vogliamo esporre nella nostra mostra un lavoro video, lo chiediamo in prestito ad Electronic Arts Intermix. Electronic Arts Intermix ha una sezione che si occupa anche di conservazione dei video, cosa che è un aspetto fondamentale perché per conservare un video ci vuole anche un sistema che permetta il trasporto da un formato all'altro perché sappiamo che i formati e le tecnologie diventano obsoleti in un tempo rapidissimo, così come è stato dagli anni 70 in poi, siamo passati dall'analogico al digitale e dal digitale siamo passati insomma all'elettronica, cioè pura, no? E Electronic Arts Intermix si occupa anche di questo, avendo proprio una sezione specifica proprio per la conservazione delle opere video, delle opere d'arte digitali. Queste appunto a Chelsea si sono concentrati un'altra, diciamo, degli altri spazi che si sono focalizzati e dedicati soprattutto alla produzione di opere di new media, cioè di nuovi media e queste istituzioni sono appunto The Kitchen che è un centro per il video, la musica, la danza e la performance ed è appunto The Kitchen, è stato fondato nel 71 da Woody e Steina Vasulka che sono appunto due artisti che hanno utilizzato i laser per insomma molte delle loro installazioni elettroniche ed è un centro dedicato appunto ai nuovi media, alla letteratura, alla danza contemporanea. Dagli anni 70 ha ospitato artisti come Gary Hill, Laurie Anderson, Philip Glass, Kiki Smith insomma è un luogo veramente di culto a New York. Nel 1997 High Beam, che invece appunto quest'altro spazio sempre a Chelsea, ospitato in uno di questi magazzini è un altro luogo che anche qui appunto è dedicato, è un'organizzazione no profit, è dedicato all'arte, al rapporto tra arte e tecnologia e da quando ha aperto ha offerto circa 250 borse di studio a artisti creativi che lavorano tra l'arte e la tecnologia. Questo è importante perché non in tutte le città, non in tutti i luoghi c'è questo rapporto così forte tra appunto arte e nuovi media e non ci sono insomma sono poche forse quelle organizzazioni, quei musei anche che si occupano di sostenere e si impegnano a promuovere i linguaggi che mettono insieme arte e tecnologia e iBIM in questo senso lo ha invece è stata e attualmente oggi una delle istituzioni più importanti ho da poco incontrato un artista italiano che si chiama Paolo Cirio che è un media attivista, un artista che lavora su internet per liquidarlo così in breve ma fa molto di più e che è appunto un fellow, cioè un borsista di iBIM da un anno e lì ha sviluppato appunto un progetto, ha soprattutto realizzato un'opera che si chiama Face to Facebook che è un progetto che se ve lo appuntate e poi andate online potete vederlo Face to Facebook è un progetto realizzato appunto con i social network gli artisti contemporanei lavorano anche con i social network nel senso che utilizzano di periodo, di periodo, di epoca in epoca cercano di portare, di sfruttare le tecnologie o comunque i sistemi di comunicazione insomma di renderli in qualche modo interessanti e di portarle anche la loro funzionalità alle estreme conseguenze e quindi Paolo Cirio che è torinese e che è stato e che è lì ha realizzato questo progetto poi esposto alla New School in una mostra appunto organizzata da Christian Paul che è la curatrice di New Media per il Whitney Museum ma anche docente appunto di storia della New Media Art per la New School of Art di New York e nello spazio dedicato alle mostre della New School Christian Paul ha organizzato questa mostra dove Paolo Cirio ha partecipato con questo progetto Face to Facebook ed è un progetto per il quale appunto ha messo in crisi Facebook ecco che è appunto un colosso e si può perché lui ci è riuscito perché i media attivisti cioè gli artisti che lavorano appunto con le nuove tecnologie cercano di individuare qual è il sistema cioè qual è la falla del sistema per poterlo diciamo scardinare e cosa ha fatto Paolo Cirio? Adesso non ve lo posso far vedere ma ha semplicemente appunto rubato i profili di un milione di persone su Facebook e poi li ha inseriti in un sito di appuntamenti e di incontri dove appunto si poteva come dire scegliere il proprio partner e quindi iniziare una love story comunque insomma questo progetto ovviamente è rimasto per qualche giorno poi è stato oscurato però come dire ha evidenziato evidentemente insomma qualcosa che per chi partecipa e ha un profilo social network all'inizio della diffusione di Facebook non era ancora chiaro cioè non era chiaro se le nostre fotografie insomma noi le mettiamo insomma per condividerle con i nostri con gli utenti che fanno parte della nostra cerchia o se sono pubbliche quindi la nostra privacy non esiste perché appartengono alla rete e quindi tutto ciò che noi creiamo cioè tutto ciò che immettiamo sulla rete e in realtà è pubblico diventa tuo mio diventa di Paolo Cirio che se ne è in possessa e prende la tua faccia e la mette da un'altra parte quindi era divertente insomma questo progetto e questo progetto è stato sviluppato proprio ad Ibeam che ha ovviamente provveduto anche a sostenerlo nelle spese legali che ha dovuto affrontare per difendersi dalle appunto da Facebook vincendo perché appunto questo era un perché Facebook è la diciamo l'ufficio legale di Facebook non era ancora preparato a subire un attacco di hackeraggio o comunque un attacco di un media attivista che gli rubasse un milione di profili e poi li rimettesse online questo è quello che fanno appunto le istituzioni americane nel senso che appunto se Ibeam non esistesse Paolo Cirio vuol dire questo progetto non l'avrebbe fatto e in Italia Paolo Cirio come tanti altri artisti in realtà trova poco spazio per poter lavorare diciamo su questo tipo di opere e ora il questo diciamo per darmi una panoramica e per dirvi che a Chelsea cerco di andare un po' più speditamente a Chelsea esiste un luogo che si chiama The Art Foundation che è un'altra istituzione appunto storica che ha una sede adesso principale nella sede appunto di Nabisco in un edificio industriale che ora ospita una delle più grandi collezioni insomma al mondo un museo meraviglioso che si chiama The Art Foundation proprio a nord di New York ma aveva anche una sede ha ancora una sede ma non è più appunto la sede principale espositiva della The Art Foundation sulla ventiduesima strada ed è appunto un luogo che ora ospita degli altri eventi delle altre attività il progetto appunto della The Art Foundation è nato per ospitare delle mostre insomma che avessero a che fare soprattutto con installazioni con progetti specifici di artisti per cui per esempio sulle scale, sulla tromba delle scale di questo edificio c'è una lunga un'installazione di neon di Dan Flavin mentre sul camminamento appunto per tutta su tutta la ventiduesima strada c'è un intervento di di pietre e di alberi pensato da Joseph Beuys questo edificio che dicono insomma riaprirà al pubblico come The Art Foundation Chelsea riaprirà nel 2016 e nel frattempo in questi anni è stato utilizzato per qualcos'altro nel 2009-2010 ha per esempio ospitato un progetto che si chiamava X-Initiative che è un progetto che è nato appunto come organizzazione no profit è un'organizzazione nata appunto da giovani artisti ma anche artisti di generazioni diverse per esempio Anzac o curatori e critici insomma galleristi collezionisti che tra la primavera del 2009 e l'inverno del 2010 per circa appunto quattro stagioni hanno organizzato delle mostre delle attività e hanno ricreato nello spazio della The Art Foundation che sono cinque piani credo quattro o cinque piani dedicati proprio all'arte contemporanea e X-Initiative ha realizzato moltissime attività diciamo alcuni dei dei momenti diciamo conviviali tra cui appunto il Roof dove si domina una vista meravigliosa sull'Hudson recentemente cioè a marzo di quest'anno nel 2013 ha ospitato una fiera che si chiama Independent Art Fair perché una fiera che ha diciamo che è nata grazie appunto al contributo di Elisabeth D di Darren Flock insomma di galleristi che hanno di art dealer che operano a New York e che hanno organizzato questa mostra in concomitanza a quelle che sono le mostre come dire la fiera più importante che si svolge a New York ogni anno a marzo che è l'Armory Show che è una fiera appunto che è nata negli anni 30 tra gli anni 30 e gli anni 40 non mi ricordo l'anno ma è una fiera molto antica molto importante anzi è la fiera più importante al mondo e Independent è invece appunto una fiera che ospita gallerie più piccole quindi gallerie che in qualche modo non si possono permettere di partecipare insomma alle fiere più grandi e quindi fanno appunto partecipano ad una fiera insomma che è tutto sommato più accessibile è importante perché come dire a sopravvivere a New York soprattutto durante la crisi insomma non è semplice non è stato semplice dopo il crollo delle torri quindi dopo l'11 settembre c'è stato appunto come tutti sappiamo appunto un tracollo finanziario e la crisi e la recessione che adesso insomma da cui sta uscendo da cui stanno uscendo gli Stati Uniti insomma così dicono almeno almeno i galleristi almeno diciamo le fonti anche che si occupano più strettamente di economia o di politica e New York appunto riesce comunque sempre come diceva Bruce Nauman a rinnovare questa creatività a rinnovarsi quindi a inventarsi sempre qualcosa di nuovo allora indipendente la fiera più fresca più come dire più cool come direbbero appunto gli americani dove le gallerie giovani che sono nate insomma da meno di tre anni più o meno possono accedere possono partecipare quindi fare parte anche loro della grande giostra del sistema dell'arte c'è un altro distretto nuovo per l'arte contemporanea che ora come dire spostandoci nella parte east cioè ad est di Manhattan specularmente appunto a Chelsea è il Lower East Side il Lower East Side è un un quartiere è un'area di New York noi stiamo cercando di attraversare per le strade insomma cioè inseguendo quello che accade quello che è accaduto negli ultimi anni perché il Lower East Side è stato appunto uno dei delle zone insomma dove fino agli anni 90 non era possibile quasi accedere o comunque la zona per esempio di Bowery Street che è una lunga avenue che taglia proprio in verticale insomma Manhattan è che separa appunto il Lower East Side la Bowery per esempio Bowery Street che è questa che si vede qui questa strada trafficata ora è diventata una una via molto importante perché qui si è impiantato nel 2007 un museo che è uno dei musei più importanti al mondo ovviamente uno dei più importanti a New York per l'arte contemporanea che è il New Museum for Contemporary Art che è un museo nato nel 1977 che aveva appunto sede prima a Broadway e che poi nel dicembre del 2007 invece si è trasferito su Bowery e con un progetto di questo è quello che era prima il New Museum nel 1983 al 583 di Broadway e poi lo spazio che sarebbe stato occupato dal nuovo museo che è un progetto di Kazuko Shensi Chima e Nishizawa questo progetto appunto di questo museo è come dire architettonicamente futuristico perché è un come dire si inserisce e cresce in verticale ed è una struttura lunga e stretta alta appunto cinque piani con questo roof con questo tetto dal quale appunto si domina tutta downtown New York ed è un un progetto architettonico ambiziosissimo perché perché il New Museum ospita insomma delle mostre d'arte contemporanea che si dipanano che di volta in volta stravolgono proprio tutto questo spazio peraltro adesso dove c'è quella tenda gialla il museo ha anche acquisito quegli spazi lì in basso allora tentando appunto di espandersi e chissà se in futuro insomma si prenderà anche degli altri plessi delle altre strutture insomma sulla su Baweri e il curatore del New Museum cioè il il direttore delle mostre speciali del New Museum si chiama è un italiano si chiama Massimiliano Gioni ed è il curatore della prossima di questa biennale d'arte contemporanea di Venezia quindi e nel 2007 la mostra che Massimiliano Gioni organizza al New Museum si chiama Un Monumental che è una mostra appunto che riflette sul concetto di scultura mentre proprio perché appunto ci piace parlare degli italiani New York e quindi è questo insomma perché anche non soltanto insomma il nostro fiore all'occhiello ma anche insomma una mostra particolarmente interessante l'ultima mostra appunto organizzata quest'anno e curata da Massimiliano Gioni si chiama New York City 1993 Experimental Jet Set Crash Non Stars questa è una diciamo a mio parere modesto parere e assolutamente personale una mostra meravigliosa perché è una mostra che intanto riguarda come dire gli anni di quella New York un po' leggendaria degli anni 90 il 93 è una data che Gioni sceglie appunto di raccontare perché nel 93 accadono tante cose tra cui appunto il per esempio il primo attentato alle torri gemelle l'inizio del World Wide Web l'anno in cui si svolge aperto la Biennale di Venezia l'anno appunto in cui Bill Clinton viene eletto Presidente degli Stati Uniti e insomma potrebbe andare all'infinito però il 1993 a New York e gli anni 90 è un periodo che particolarmente caldo anche dal punto di vista appunto degli eventi di quello che accade soprattutto perché questa mostra cerca di rappresentare quelle dinamiche insomma quel contesto e quell'atmosfera anche un po' cupa insomma che si era creata a New York con la diffusione dell'AIDS e quindi questa mostra è incentrata insomma moltissimo su opere che hanno a che fare proprio con 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 l'AIDS e con il rapporto appunto che che la comunità insomma ha appunto con con questa nuova malattia con questo nuovo come dire questo fenomeno che investe tutti e che a un certo punto di cui tutti cominciano ad accorgersi e c'è una stanza in particolare che è questa che dal punto di vista curatoriale questo diciamo parlando più strettamente insomma e in termini di di come si può visualizzare e di come si possono far dialogare le opere tra di loro all'interno di uno spazio in questo in questo spazio insomma in una di quelle delle stanze della mostra c'è credo appunto un esempio di come si può realizzare la 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 un'armonica coesistenza di opere diverse per cui c'è appunto in questa stanza c'era appunto una una installazione alle pareti di Felix Gonzales Torres che è uno dei più grandi artisti americani morto anche lui appunto di AIDS e che rappresenta appunto questo enorme wallpaper con un cielo molto cupo molto triste anche insomma denso di pioggia e una le fotografie di Zoe Leonard che sono delle fotografie appunto degli scorci di New York anche insomma un po' della New York non da cartolina ma degli scorci delle periferie e al centro questa sempre di Gonzales Torres questa cascata di lampadine insomma delle lampadine delle luci che normalmente stanno in alto e che servono ad illuminarci e che invece cadono a terra insomma come a dire la festa è finita e tutto sta crollando il Christine Oppenheim era un suono una musica che suonava e poi c'era appunto questa moquette arancione di Rudolf Stingel ecco questo è un piccolo esempio di come diciamo tra le altre cose insomma tra le ultime mostre realizzate al New Museum questo è l'esempio di come si può raccontare la città di New York attraverso una mostra e quindi come dire attraverso uno stroboscopio perché insomma probabilmente i sopravvissuti di quegli anni insomma ed erano forse tanti forse pochi comunque hanno vissuto insomma questa mostra così quanto dicono poi la stampa insomma della che ha partecipato a questa mostra ha diciamo ha dato un esito positivo ecco questa è un'altra delle opere di Gabriele Orozco che si chiama Highland ed è anche questa insomma una una foto così che riprende downtown con la vista delle torri gemelle quando ancora insomma erano lì questo è un progetto invece ospitato in quella parte bassa in quel corpo basso e quindi non all'interno dell'immissio ma in quel corpo basso del museo è un progetto di Narivard che è un che si chiama Amazing Grace ed è una raccolta di migliaia di passeggini di carrozzine usate che l'artista che questo artista ha raccolto ad Harlem nel corso appunto delle sue peregrinazioni e che poi ha ricostruito come se fosse una nave peraltro Narivard è uno degli artisti ospiti dell'American Academy qui a Roma in questo periodo quindi è insomma anche una presenza interessante sempre insomma per completare questo giro attraverso i luoghi dell'arte contemporanea facciamo un salto oltre il ponte oltre appunto il Manhattan Bridge oltre questo ponte c'è un quartiere che si chiama Dumbo che è stato appunto ribattezzato Dumbo proprio perché è l'acronimo di Down Under the Manhattan Bridge Overpass che è un significa appunto quella zona un triangolo che si apre proprio sotto il ponte e anche qui diciamo questo è stato anche questo un esempio di gentrificazione perché anche qui si è svolto appunto si è innescata quella dinamica prima come come anche Chelsea dove gli artisti si sono spostati cioè a partire appunto dagli anni 90 per cercare degli studi più grandi degli affitti meno cari quindi una vita economicamente sostenibile e nello stesso tempo insomma vivere anche lontano da Manhattan perché Manhattan è come una grande trappola insomma da cui a un certo punto si vuole fuggire quindi gli americani insomma o i i new yorkesi che decidono di mettere su famiglia per esempio come molti amici insomma new yorkesi a un certo punto si spostano a Brooklyn o si spostano in zone che non sono appunto Manhattan che non è Manhattan che non sono le strade trafficate le avenue e la vita arrutilante troppo appunto di Manhattan dove la gente pare che non vada mai a dormire e la sensazione infatti è proprio quella sempre quella di perdersi qualcosa di andare a dormire di stare insomma di perdersi di essere sempre come dire in credito di qualcosa ma comunque D'Ambo vive anch'esso un periodo e un momento di autocelebrazione perché adesso D'Ambo ovviamente è diventato stracaro è diventato carissimo è diventato da una delle zone insomma dove prima si sono trasferiti gli artisti poi sono arrivati appunto le agenzie immobiliari poi è arrivato Starbucks poi è arrivata gli UPS insomma sono così a catena hanno innalzato il prezzo degli immobili e in tutto questo però la comunità artistica cioè gli artisti che si erano comunque avevano occupato uno di questi palazzi industriali sotto il ponte hanno cominciato appunto a lavorare ad un progetto che si chiama D'Ambo Arts Festival che si svolge tra il mese di settembre e il mese di ottobre ogni anno ed è un festival che si occupa di arti performative soprattutto ma anche appunto di rassegne video soprattutto e di attività che si svolgono per le strade quindi D'Ambo diventa come dire come una grande fiera come una grande festa per le strade che vengono animate ogni anno insomma da progetti che poi invadono letteralmente proprio come dire tutto il quartiere e questo diciamo ci fa capire anche qui come questi processi poi queste dinamiche culturali che poi diventano dinamiche economiche che diventano consuetudini come abbiamo detto sono si ripetono diciamo regolarmente cioè hanno una è come dire insomma esiste un'attitudine a New York a creare valore non soltanto valore economico ma anche appunto un valore strettamente culturale e tra questi c'è un insomma tra le istituzioni che stanno oltre il ponte comunque stanno oltre Manhattan c'è una istituzione che si chiama PS1 ma non vi parlerò del PS1 vi parlerò di una cosa di un progetto che organizza il PS1 che è una mostra che si chiama The Greater New York intanto il PS1 è per breve inciso è una Public School One cioè sta appunto per Public School One è una ex scuola che negli anni settanta è stata occupata da un gruppo di artisti curatori e critici tra cui Alanna Heiss che insomma adesso non è più nella direttore appunto del PS1 e Klaus Biesenbach il nuovo curatore appunto e il PS1 è nato come come istituzione che serviva proprio ad accogliere dei progetti indipendenti dei workshop delle attività di tipo laboratoriale ovviamente questa forma così d'avanguardia è stata immediatamente intercettata da un museo più grande che è il MoMA che lo ha inglobato lo ha trasformato nella sua diciamo dependence per l'arte contemporanea cioè per i progetti più d'avanguardia cioè più sperimentali e dedicati all'arte contemporanea se il MoMA serve diciamo in qualche modo il MoMA il museo che si trova sulla cinquantatresima strada insomma come luogo della santificazione della storicizzazione il PS1 è il luogo dove si sperimenta di più e infatti diventa il luogo in qualche modo dove è possibile per esempio vedere ogni cinque anni qual è la temperatura dell'arte contemporanea a New York attraverso una mostra che si chiama The Greater New York The Greater New York è stata appunto è un evento particolarmente importante seguito e molto atteso perché è una specie di rassegna che occupa tutto lo spazio del del PS1 ed è una rassegna che include tra cinquanta e sessanta artisti della scena attuale new yorkese cioè che lavorano vivono a new york e sono artisti soprattutto giovani se insomma guardiamo insomma anche l'ultimo o il penultimo dei delle mostre realizzate a new york ci sono alcuni nomi di artisti che da qui poi finiscono dritti dritti negli spazi appunto delle delle gallerie più importanti nelle biennali e che quindi diciamo insomma in qualche modo ci aiutano anche a capire quali sono le possibilità che una mostra può offrire evidentemente ad un artista insomma più giovane insomma un artista contemporaneo più più giovane e l'ultima mostra infatti era è stata organizzata appunto e curata da Klaus Biesenbach ed è una mostra che ha raccolto le opere appunto di 350 e 60 artisti adesso non ricordo il numero ma sono appunto artisti che producono poi dei progetti speciali dei progetti specifici anche per il museo durante l'estate peraltro proprio perché le attività non si esauriscono mai e la comunità artistica soprattutto non si annoia ed è sempre attiva d'estate il PS1 organizza i warm up che sono degli appuntamenti musicali molto importanti dove lo spazio esterno della corte esterna del museo ospita questi grandi questi insomma concerti di musica contemporanea di musica elettronica insomma contemporanea dove DJ da tutto il mondo vengono ospitati fanno ballare dalle tre alle nove del pomeriggio i new yorkesi ma non ci vanno soltanto come dire quelli che vogliono ballare basta ci vanno le famiglie ci vanno le famiglie con i bambini insomma il PS1 è un luogo aperto cioè un luogo che in qualche modo appunto pur essendo deterritorializzato si trova nel Queens quindi in un quartiere che non è a Manhattan accoglie comunque folle di gente che continuano appunto che animano appunto questo luogo ora la differenza insomma tra il nostro sistema e quello americano è evidente noi non andiamo a Centocelle a vedere una mostra per esempio no? forse facciamo anche insomma un grande sforzo ad uscire fuori dalle mura no? allora è il sistema come dire di relazione che funziona a New York di relazione tra l'arte contemporanea i suoi spazi l'offerta culturale il pubblico che funziona a New York cioè quello che forse in Italia in qualche modo dovrebbe essere anche implementato da tanti punti di vista saltando appunto da istituzioni a mostre a quelle che sono diciamo le esperienze le più importanti che New York offre durante il corso dell'anno quindi insomma potenzialmente ogni mese ogni settimana ogni giorno noi potremmo come dire assistere partecipare diciamo a eventi e occasioni appunto di qualsiasi natura tra cui appunto l'Armory Show che vi diceva appunto una delle fiere più importanti d'arte contemporanea a New York ed è una mostra che si trova sui pier sempre nella zona appunto dell'Hudson cioè del fiume Hudson e l'Armory Show è una delle più antiche fiere d'arte contemporanea a cui partecipano le gallerie più importanti di tutto il mondo e dove viene in qualche modo deciso qual è il il sistema economico perché il sistema economico si basa appunto strettamente sulla capacità per esempio di una fiera di poter ospitare di poter avere di poter accogliere e quindi restituire in qualche modo insomma anche la ciò che le gallerie diciamo di meglio hanno da offrire e all'Armory Show insomma questo accade insomma chiamiamolo piccolo ma è un piccolo microcosmo un piccolo sistema economico dove le fluttuazioni insomma dell'arte avvengono lì e insieme all'Armory una delle fiere più recenti per non parlarvi appunto di Scope Volta e altre fiere che si svolgono contemporaneamente alla alla fiera principale appunto l'Armory Show Frees New York che si è svolta adesso proprio qualche settimana fa a New York è stata ospitata a Runders Island che è appunto un parco dove si arrivava come dire attraverso un battello e Frees Are Fair è una mostra appunto che in realtà non è nata a New York ma è nata a Londra e che però ha voluto come dire impiantarsi a New York e questo diciamo è esemplare da questo punto di vista noi cosa facciamo per l'arte contemporanea mi introduceva Marco Berti poco fa dicendo di quello che noi possiamo fare per l'arte contemporanea a New York e del modo in cui insomma le nostre forze cercano di mettere relazionarsi con la città e anche con il sistema dell'arte dell'arte americano da qualche anno appunto seguo quello che appunto è il premio selezione New York che ora si chiama Gotham Prize ha cambiato nome nel corso appunto di due anni e che in realtà appunto una mostra che viene organizzata appunto dall'Istituto Italiano di Cultura che segue un altro progetto un altro premio che è il premio New York che interessa sicuramente gli artisti più giovani peraltro appunto il bando è appena uscito e quindi sarà diciamo possibile parteciparvi il premio New York invece è un premio finanziato sostenuto sponsorizzato dal Ministero degli Affari Esteri dall'Istituto Italiano di Cultura insieme alla Columbia University e all'ISP che è l'International School for Curatorial Program di Brooklyn l'ISP è il luogo dove da qualche anno l'Istituto Italiano di Cultura manda ogni anno due artisti giovani due talenti diciamo della giovane arte italiana a svolgere una residenza di quattro mesi perché è importante che gli artisti vadano a New York proprio per tutto quello che abbiamo visto perché New York è un melting pot di culture ma anche dove incontrare dove tutti gli incontri sono possibili dove insomma le aspettative sono anche molto alte e il premio New York serve proprio a dare questa opportunità cioè gli ultimi due artisti che sono stati lì sono Anna Franceschini e Francesco Rena che è uno degli artisti peraltro che partecipa nel padiglione italiano che espone nel padiglione italiano alla Biennale di Venezia di quest'anno e sono artisti appunto che vivono a New York per quattro mesi che hanno uno studio all'interno di questo spazio industriale della IACP di Brooklyn ed è una possibilità in più diciamo per potersi in qualche modo affermare all'interno del sistema dell'arte contemporanea e ovviamente è chiaro che New York ha una dimensione competitiva smisurata e che quindi forse quattro mesi non possono neanche essere diciamo così determinanti nella carriera di un artista giovane però insomma è uno sforzo insomma che l'Italia fa e che quindi va in qualche modo sottolineato evidenziato in più l'Istituto Italiano di Cultura sotto la direzione insomma di Riccardo Viale che è il suo attuale direttore ha istituito questo progetto che vi dicevo che è il premio Selezione New York di cui mi sono occupata nel 2011 e anche quest'anno e che serve proprio per offrire invece non una residenza quanto una mostra all'interno degli spazi dell'Istituto proprio perché l'Istituto diciamo italiano possa vivere anche d'arte contemporanea oltre alle mille attività di cui insomma deve quotidianamente e periodicamente occuparsi così come fa per esempio l'Istituto Svizzero lo Swiss Institute sia qui a Roma ma anche negli Stati Uniti ma anche a New York dove è uno dei centri diciamo addirittura più importanti anche diciamo per l'arte contemporanea e nel 2011 i primi vincitori appunto selezionati da una giuria internazionale sono stati Riccardo Previdi e Nicola Pecoraro Riccardo Previdi è un artista italiano che vive a Berlino un artista di Milano che vive a Berlino da tanti anni e Nicola Pecoraro un artista romano che vive a Roma e i loro progetti ovviamente sono stati esposti sono stati realizzati con un grande sforzo devo dire personale insieme ad un gruppo di persone ad una organizzazione diciamo di sostenitori di finanziatori privati che ci hanno permesso di organizzare questa mostra perché l'Istituto Italiano di Cultura come come dire ogni istituzione pubblica soffre dei tagli alla cultura ne soffre moltissimo e le attività infatti sono ridotte al minimo e questa mostra questo progetto che noi facciamo appunto con il il Gotham Prize è un premio cioè è un premio che viene realizzato attraverso il finanziamento di sponsor privati quindi noi riusciamo ad avere ogni anno ogni due anni insomma quando si svolge la mostra facciamo un'attività di fundraising e con il fundraising riusciamo a coprire le spese che l'Istituto Italiano non può coprire semplicemente e che servono per realizzare dei libri d'artista quindi a questi artisti viene data l'opportunità di avere un libro non un catalogo che è una cosa diversa ma un libro d'artista edito da un giovane editore che si chiama Nero qui a Roma ed è un un lavoro insomma che riesce in qualche modo a mettere insieme a dare la possibilità anche a questi artisti di avere di conservare un loro piccolo progetto nel 2011 abbiamo organizzato una tavola rotonda insieme alla quale hanno partecipato oltre i due artisti Previdi e Pecoraro anche Massimiliano Gioni Pepi Marchetti Franchi Francesco Bonami e lo stesso direttore dell'Istituto Italiano di Cultura il dialogo appunto la conversazione che abbiamo avuto in quella tavola rotonda riguardava proprio lo stato dell'arte italiana e l'intervento dei privati al tempo della crisi mi ha colpito particolarmente insomma l'intervento di Massimiliano Gioni che diceva bene io sono il direttore della fondazione Trussardi che è un privato e che quindi decide di finanziare tutte le mostre e le attività che facciamo ma il New Museum per esempio che è il museo che abbiamo visto che è uno dei musei come dire più importanti attivi nella promozione dell'arte contemporanea viene finanziato da Beth & Beyond che è un'azienda americana che produce della merce per il bagno semplicemente ecco quindi non c'è diciamo niente di più semplice che trovare un finanziatore se anche le politiche diciamo economiche di finanziamento diciamo potessero come dire andare meglio incontro a quelle che sono le forme di defiscalizzazione per le aziende per esempio i privati che sostengono l'arte contemporanea ecco in America queste forme di detassazione esistono sono molto più agevoli sono molto più semplici di quanto non lo siano in Italia questo è determinante cioè questo è un elemento discriminante perché in qualche modo ci fa viaggiare a due velocità diverse cioè ci fa ci fa vedere il modo in cui si muovono i musei americani e il modo in cui si muovono appunto le nostre istituzioni italiane è chiaro appunto che questo è un discorso diciamo economico che va affrontato in un'altra sede e comunque insomma in un modo molto più approfondito di come io lo stia brevemente accennando però ricordo appunto che di quella tavola rotonda insomma si è esattamente sottolineato proprio questo aspetto questa discriminante italiana cioè questa forma insomma che in qualche modo non ci permette ecco di essere competitivi all'estero cioè di fare in modo appunto che queste strategie diciamo di promozione di valorizzazione anche dell'arte italiana all'estero siano diciamo insomma meglio sostenute e questo appunto è il piccolo pubblico che aveva partecipato ma insomma speriamo che insomma l'istituto italiano abbia modo anche in futuro di poter continuare insomma anche a costruire questo legame a rafforzare questo legame con con la città di New York che non è semplice perché siamo appunto oltre oceano e tutto ciò insomma che viene in qualche modo fatto realizzato ha sempre diciamo il la necessità di doversi confrontare con una con una realtà insomma molto più ampia io spero di avervi dato diciamo una dimensione quanto meno generale se non generica insomma di questa di New York insomma di quella che è l'atmosfera insomma che è stata in questi anni di quelle piccole suggestioni insomma che ho raccolto vi ringrazio e a presto con la prossima conversazione grazie 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 grazie